Dimmi la verità, te ne ha parlato? Chi? Ugo, dell'incidente Sì, sì Ma non è stato grave, no? Mi ha detto che sei rimasta un po' in clinica Per lo shock Ho conosciuto una ragazza Dove? La Vuoi dire in clinica? Stava molto male E che voleva avere tutto Tutto che cosa? Il dottore le diceva Lei deve imparare ad amare Amare una persona o una cosa Suo marito Suo figlio Un lavoro O anche un cane Ma non Marito, figlio, lavoro, cane Alberi, fiume Ti ha mai detto che cosa sentiva? Le mancava il pavimento L'impressione di scivolare su un piano inclinato D'andare giù D'essere sempre E lì per affogare E non hai niente Neanche suo marito? No, neanche suo marito E poi Il marito non c'era, era via Neanche suo figlio? Lui, sì Ma Quella ragazza Non aveva figli Quando è uscita dalla clinica Era un punto che si domandava Ma io chi sono? Ce l'è dovuto far spiegare Da me Adesso è guarita